Questo sarà l'anno delle materie prime, parola di Goldman Sachs. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Trading Today, indifferita oggi perché l'ho registrato un pochino prima, sono a Roma come vi avevo detto, sono in Italia per alcuni giri, quindi ho cercato comunque di darvi l'update della giornata, ci sono novità interessanti soprattutto sul fronte Cina dove abbiamo i primi dati, ma volevo parlare di quello che ha detto Goldman Sachs sulle materie prime. Allora, guardiamo un secondo che cosa stanno facendo le materie prime, poi vi dirò che cosa ha da dire Goldman Sachs e perché dice che quest'anno sarà un anno estremamente rialzista per le materie prime, paragonandolo addirittura facendo un parallelismo con il 2007-2008, andiamo dopo a vedere anche che cosa è successo. Guardate, questo è il DJP che io uso come, diciamo, indice un pochino più ampio, all'interno di questo indice ci sono il Bloomberg Commodity Index, questo ci sono 19 materie prime, quindi riassume un po' il mercato nella sua completezza. Cosa abbiamo visto qui? Abbiamo visto dopo il Covid questo storno del prezzo che poi è ripartito alla grande, ha toccato i massimi qui il 6 giugno del 2022 e poi c'è stato questo ritracciamento. Ragazzi, è ancora un ritracciamento, eh? Guardate, se vi segno io qua Fibonacci dallo swing low allo swing high, vi faccio vedere dove siamo arrivati. Siamo appena arrivati al livello 38,2 e infatti vedete che ho segnato questi rettangoli di attenzione. Anche se andiamo a considerare l'ultimo impulso, quello che è partito il 29 novembre, vi faccio vedere dove siamo arrivati. Siamo appena a livello 61,8, quindi ancora questo si tratta di, tecnicamente parlando, un ritracciamento puro delle materie prime. E ci sta da un certo punto di vista, perché sappiamo che le materie prime nel ciclo economico sono le ultime a scendere, no? Prima scendono le obbligazioni, poi le equities e infine le materie prime. Ma qui non possiamo ancora parlare di mercato ribassista, assolutamente no. Guardate dove sta il prezzo tra l'altro del 2020, me lo sono segnato qua, siamo a 23,20, quindi siamo ancora molto alti. Il prezzo è appena sceso sotto la media a 50 periodi e questo è il grafico settimanale. Fondamentalmente quello che dice Goldman Sachs è che c'è grande shock di offerta, ci sono ancora problemi, anche se non più come il 2020-21, sono sulla supply chain, sulla catena di approvvigionamento e la domanda non sarà probabilmente bassa come ci si aspettava, l'offerta non riuscirà comunque a stare dietro alla domanda e quindi questo è un cocktail perfetto per vedere ancora alzarsi i prezzi delle materie prime. A parte il, diceva, il TTF che è il natural gas, il natural gas in Europa, perché quello dal punto di vista delle scorte sta molto bene, infatti vedete che siamo tornati, l'avevamo già commentato insieme, siamo tornati a valori pre-invasione Russia-Ucraina. Questo è il natural gas ma quotato in Europa. Ora, cosa è successo? Torniamo un attimo su DJP perché vi faccio vedere cosa è successo nel 2008, anche per farvi capire che cosa si aspetta Goldman Sachs e come al solito non è che perché Goldman Sachs ha detto questo allora ha la palla di cristallo e si verificherà, loro sono analisti finanziari e devono parlare di questo e non sempre ci indovinano perché è comunque molto difficile prevedere quello che succederà. Ma quello che è successo nel 2007, guardate, ad agosto è partito il primo impulso rialzista che ha portato e ha toccato il picco nel giugno del 2008, quindi quasi un anno, e abbiamo visto un più 53%, quindi si è alzato notevolmente. Poi la verità è che, vedete, dopo la bolla di la recessione, dopo la bolla immobiliare della grande crisi finanziaria, guardate che cosa hanno fatto i prezzi, sono tornati ben al di sotto del 2007, toccando il minimo a febbraio del 2009 e, vedete, ci hanno messo parecchio poi a... Aspettate, guardate, ci metto qua una bella linea, così capite di che cosa stiamo parlando. Torna ai giorni nostri, questa è la linea dei massimi del 2007, eh? Guardate qua, non ci sono mai più tornate le materie prime a quei prezzi, quindi grandissima speculazione. E vediamo se Goldman Sachs avrà ragione e vedremo un prezzo addirittura riuscire a toccare quei valori. Io, come vi dico sempre, credo ai dati, i dati adesso ci dicono che per le materie prime, a parte alcune materie prime molto specifiche che rispondono a problematiche di stoccaggio, di scorte, di produzione, per problemi climatici, penso a tutte quelle materie prime coinvolte, per esempio, nella costruzione, nella realizzazione di microchip, il silicio, il cobalto, l'alluminio, il platino, i metalli più industriali, l'argento. Allora, quelle potrebbero vedere un vento un pochino più forte e rialzista, ma se andiamo a considerare il petrolio, per esempio, cosa ha fatto il petrolio nell'ultimo periodo? Beh, niente di buono, lo abbiamo visto, è sceso da questi massimi qua di giugno, è arrivato qui al di sotto degli 80 dollari, adesso è all'interno di questo canale che va dagli 85 come massimi ai 72, 71 e 80 come minimi, e vedete che si sta muovendo al di sotto della media 200 periodi, e da novembre al di sotto anche della media 50 periodi. Viceversa il gold, invece, io il gold lo considero, ragazzi, una valuta piuttosto che una commodities, per come viene pensato e utilizzato anche, no? Il gold ha avuto una grande accelerazione, ha sofferto tanto il gold nel 2022, l'ho detto più e più volte, fatto sta che per adesso il gold rimane alto e riesce a rimanere sopra i 1900, ma ripeto, è usato veramente poco nell'industria. Andiamo a vedere il silver, invece, che cosa sta facendo, che non lo vediamo da un po', perché anche l'argento, vedete, ha goduto di questo primo impulso rialzista che vi disegno qua, piccolo ritracciamento che è arrivato proprio su un livello importantissimo, che è stato usato come resistenza e come supporto in passato, e esattamente come il passato, qui ha determinato questo ritracciamento che ha toccato la media 200 periodi, per poi vedere che cosa, un altro impulso rialzista. E qui adesso siamo in una fase di un po' lateralizzazione, no? Da un certo punto di vista si è formato, guardate, questi sono, fatemelo disegnare un secondo, questi sono i massimi, il prezzo ha fatto fatica, sta facendo fatica a superare questi massimi, e c'è quasi un triangolo ascendente, pattern di prosecuzione, inserito all'interno di questo doppio impulso rialzista, staremo a vedere che cosa farà il rame, e vi direi che per oggi, per adesso, nemmeno, cioè è arrivato appena a sfiorare il livello 38,2, quindi siamo proprio in una fase di ritracciamento corto di questo metallo. Ragazzi, Cina, sono usciti i dati in Cina del prodotto interno lordo, sono dati tutti quanti col botto, tutti estremamente positivi, perché il prodotto interno lordo, andiamo a vedere nel frattempo che cosa ha fatto Langseng e Index, vedete, la Cina è ripartita, ne abbiamo parlato ieri, delle motivazioni legate a questa riapertura che il mercato ha cominciato a scontare prima, il prodotto interno lordo di Q4, che era previsto all'1,8%, è andato sopra le previsioni, si è stampato al 2,9%, la produzione industriale era previsto uno 0,2%, ha fatto un più 1,3%, la disoccupazione è scesa dal 5,7% al 5,5%, ovviamente qui in Cina la domanda è sempre ci fidiamo della banca centrale? Ah, qui c'è un alert che mi è scattato, interessante, poi lo andrò a vedere dopo, vi faccio vedere anche il CNA50, vedete stesso movimento al di sopra della media a 200 periodi, questo è il CSI 300, anche lui con la candela di ieri si è portato al di sopra della media a 200 periodi, quindi per ora il mercato cinese, dal punto di vista finanziario, regge, è sicuramente in una fase, in un impulso rialzista positivo, qui la domanda è, siamo in overbought, e quindi in estremo ipercomprato, non estremo, ma siamo in ipercomprato, quanto potrà riuscire ancora a tenere questi valori? Volevo dirvi qualcosa anche sullo Yen, perché è iniziata ieri, e ci sarà per due giorni, l'appuntamento della banca centrale giapponese, il mercato si aspetta molto, guardate qui anche la volatilità che c'è stata negli ultimi giorni, il 12 gennaio, questo è USD Yen, e lo Yen sta veramente recuperando terreno, ve l'avevo detto più e più volte, l'ho detto anche nella Trading Room, prima della fine del 2022, ho cominciato a dirlo a novembre, dicembre, che lo Yen sarebbe stata una valuta molto interessante nel 2023, e effettivamente sta dimostrando questo suo interesse, e sta dimostrando anche questa sua forza, vedete qui dove quanto è riuscito a recuperare, considerate che siamo arrivati ai livelli di prezzo, siamo a 128,50 in questo momento, ai livelli di prezzo di maggio, quindi ha annientato tutta questa salita che c'è stata. Qui dal punto di vista di un pattern di analisi tecnica, vi faccio notare, qui potremmo aver visto un testa e spalle, guardate, prima spalla, questa la testa, questa la seconda spalla, qualcuno potrebbe dire che la seconda spalla è anche formata da questa candela, ma secondo me è più giusto dal punto di vista tecnico, geometrico, disegnarla in questo modo, anche perché questa spalla coincide quasi con i massimi della precedente a sinistra, quindi dal punto di vista speculare, e questa è stata la rottura, guardate che bello, rottura della candela del 21 dicembre, con prezzo che torna proprio sulla neckline, che qui coincide con la media 200 periodi, e poi continua a scendere. Ora, cosa farà la banca centrale giapponese? Andiamo a vedere anche contro l'euro e contro altre valute, perché adesso siamo in una situazione in cui lo yen è forte, c'è una liquidità sul mercato che comincia ad essere preoccupante, la curva dei rendimenti obbligazionari di breve termine comincia ad essere maggiore, più forte, più alta di quella a lungo termine, in particolare con i dieci anni. Andiamo a vedere qua, vi faccio vedere i due anni, eccolo qui, siamo arrivati allo 0,42%, e vi faccio vedere i dieci anni, sapete che c'è il controllo della curva, e la banca centrale giapponese sta facendo difficoltà, nonostante abbia alzato a 0,50 il controllo, il tetto sui dieci anni, vedete che deve continuare a comprare per abbassare sotto i 0,50, quindi molti si chiedono, alla fine di questa riunione forse ci sarà un aumento da 0,50 a 0,75 come tetto, addirittura qualcuno dice l'un per cento, staremo a vedere, la verità è che potrebbe anche non far nulla, perché siamo in un momento molto delicato per la banca centrale giapponese, che è il momento in cui perderà, cioè perderà, dovrà passare di poltrone il presidente, e quindi forse vorranno lasciare in mano questa patata bollente al prossimo, al nuovo presidente che ci sarà. Questo ragazzi è pound yen, e vedete qui la situazione è leggermente diversa rispetto al dollaro, perché c'è questa profonda lateralità, qui c'è una, vedete, si combatte una lotta maggiore, tra la forza del pound e la forza dello yen. Andiamo a vedere un po', per esempio, il pound, nei confronti, British pound, eccolo qua, come future, quindi non vederlo confrontato con una valuta in particolare, con un cross, vedete che effettivamente il pound è abbastanza forte, ha superato, sta proprio sulla media 200 periodi, andiamoci a vedere lo yen, per farvi capire in maniera migliore, vedete lo yen, è leggermente più forte, direi la price action rispetto al pound, ma se la combattono, e infatti se torniamo su GBP yen, questa lotta la continuiamo a vedere, col prezzo che una volta va verso l'alto, in favore del pound, e una volta va verso il basso, in favore dello yen. Ragazzi concludo questo update, facendovi vedere un paio di cose, e in particolare volevo farvi vedere i WD, forse queste ce le lasciamo per la prossima volta, e questa diretta magari la facciamo un pochino più corta delle precedenti, e della Cina ho parlato, ho parlato delle materie prime, ho parlato dello yen, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati nella giornata di oggi, c'è il Fusimib e il DAX, che finalmente, finalmente direi, mostrano la prima piccolissima debolezza, oggi stornano un pochino, uno 0,30, uno 0,25%, parliamo veramente di niente, dopo la forza che abbiamo visto nelle ultime giornate, abbiamo un VIX, una volatilità che è scesa sotto i denti, siamo a 19,95, quindi in territorio di tranquillità, di calma, e parlando di tranquillità e di calma, vedete che effettivamente tranquillità e calma le vediamo anche sul mercato azionario, che è arrivato sull'S&P 500, su due punti importanti, media 200 periodi, e su questa trend line dinamica, di cui abbiamo parlato anche nella diretta di ieri, questo è il Nasdaq, stesso discorso per il Nasdaq, anche se il Nasdaq ha una distanza maggiore, vedete, è sceso di più, e ha una distanza maggiore rispetto alla media 200, infatti il Nasdaq è appena sulla media a 50 periodi, e volevo farvi vedere i rendimenti, che continuano a rimanere intorno ai 4,2, anche se sono scesi, quindi sono nella parte bassa dell'ultimo periodo, diciamo dell'ultima lateralizzazione, i 10 anni rimangono sui 3,5, e aspettate che, lo sapete che chi è arrivato qui sulla mia scrivania, è arrivato il mio mega gatto, che adesso sicuramente farà un casino, fatemelo togliere, prima che mi zompi sulla tastiera, e mi combini qualche danno, i 10 anni rimangono a 3,55, quindi curva ancora ampiamente invertita, il dollaro americano rimane ancora debole, anche se la debolezza si è un attimo fermata, ieri ha chiuso in positivo a 0,37, siamo su una struttura importante qua, ragazzi, per vari motivi, siamo su una struttura importante, e ve lo faccio vedere anche su Quontest, un secondo, guardate, andiamo un secondo su mercati e su valute, volevo farvi vedere dov'è dal punto di vista dei trend, il dollaro americano, eccocelo qua, clicchiamo, dollaro americano, e vi faccio vedere la sua, il suo grafico, il suo trend, vedete breve termine, medio termine, e lungo termine, sono tutti e tre ribassisti, per ora, quindi interessante il movimento del, scusate, non l'avete vista Quontest, perché non ho condiviso la schermata, ma ve lo dico a voce, che abbiamo tutti e tre i trend ribassisti, euro dollaro, quindi, prende un attimo di difiato, dopo questa enorme forza, il gold, anche oggi, no, anche, oggi anche lui, come il mercato europeo, storna un pochino, perde mezzo punto per ora, percentuale, e bitcoin, che per ora è il miglior performer, del 2023, ha fatto quasi il 30%, si è schiantato, o meglio, non è che si è schiantato, è arrivato sulla media a 200 periodi, guardate che bellissima, che progressione di candele, rialziste che abbiamo visto, bene, ragazzi, direi che per questo update, è tutto, noi ci vediamo, proverò domani anche a fare un video, di update, e a pubblicare qualcosa, non vi preoccupate, i mercati non si fermano mai, non dormono mai, e nemmeno noi ci fermiamo mai, perciò vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo sul canale Telegram, dove magari riesco ad aggiornarvi, se succede qualcosa, con qualche audio, con qualche bel grafico, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao.